Fine settimana rovente a Gela, ma non c'entra il clima. Sabato, infatti, tre persone sono rimaste ferite nel corso di due sparatorie, verificatesi nel giro di poche ore in Bianiscemi prima e nella zona di Macconi poi. Se i due episodi siano collegati e cosa ci sia alla base, saranno le indagini della polizia a stabilirlo. Nel frattempo il prefetto Chiara Armeni ha convocato una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il primo episodio si è verificato sabato mattina e intorno a mezzogiorno in Bianiscemi, nella zona dove sorge lo stadio Vincenzo Presti. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto si è fermata nella zona e dall'interno della vettura sono stati esplosi diversi colpi, che hanno ferito due giovani di 23 e 25 anni. Il tutto in pieno giorno, con passanti autovetture che transitavano in Bianiscemi. Nel primo pomeriggio di sabato il secondo episodio, nella zona di Macconi. Stavolta i colpi sono stati sparati contro un altro 23enne che è stato ferito ad una gamba. Tutti e tre i feriti hanno dovuto fare il ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Vittorio Emanuele, ma le loro condizioni non sono gravi. Gli investigatori stanno ora cercando di mettere insieme tutte le tessere del puzzle e stanno verificando la presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dove sono avvenute le sparatorie, per cercare di risalire all'identità dei responsabili.